Io voglio farvi ascoltare le parole del Ministro San Giuliano su questi eco-vandali e poi sta arrivando un ospite che voglio sapere proprio che ne pensa. Ascoltate. Col disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri intendiamo far pagare agli eco-vandali i costi che fino ad oggi la collettività ha dovuto pagare per ripristinare lo Stato dei luoghi. Con questo provvedimento, che è un provvedimento che stabilisce una sanzione amministrativa che verrà combinata dai prefetti noi facciamo pagare ai responsabili di questo atto quel costo che invece prima aggravava sulla collettività.